L'amministrazione ha tergiversato in tutti questi anni, si è vincolata con un compromesso e si è vincolata con un esproprio. Non ci sono più trattativi in corso perché il prezzo è stabilito ed è il prezzo dell'esproprio. La società proprietaria dell'area era disponibile anche a farsela espropriare perché il prezzo l'hanno già concordato e non si capisce per quale ragione il Comune è ancora tergiversi e non lo voglia acquistare. I soldi sono a bilancio, il problema è un altro, che a me delle dispute tra Comune e società proprietaria dell'area poco interessa. A me interessa per la cittadinanza, questa è un'area che a guardarla, a dire che è disadorna, che è abbandonata, è un eufemismo. Questa è un'area che va ripristinata. Allora, abbiamo la possibilità di avere tutta un'area parcheggio, magari servita ulteriormente in modo consono, in modo che garantisca un accesso e una friubilità migliore. Un altro parcheggio scambiatore al lato opposto del San Decenzio. E quindi creare una possibilità di accedere al centro storico a piedi, in bicicletta, con il nuovo area che ha comprato poi il Comune Limitrofa, questa, quindi accorparle tutte e due e quindi avere una potenzialità importante di numero di parcheggi. Però il Comune a oggi non si capisce che cosa voglia fare e che cosa sta facendo in questo momento. Sta creando le basi per dare un grandissimo problema all'amministrazione che verrà dopo. Qui parliamo di milioni di euro, milioni di euro che, qualora poi ci fosse un ricorso alla Corte dei Conti, e cosa che è molto probabile, anzi è in essere, subirebbero un danno per l'erario comunale. Chi lo subirebbe? I cittadini. Siamo sempre noi che paghiamo. E quindi io non capisco per quale ragione si voglia continuare a tergiversare in questo lo prendo, non lo prendo, lo prendo, sì però devo verificare, è stato verificato tutto, è tutto in regola, è tutta norma, ci sono i soldi, è stabilito già il prezzo, non c'è più trattativa da fare, bisogna solo andare all'acquisto ed evitare che i pendolari, cioè i nostri cittadini che fanno un lavoro fuori dal Comune di Pesaro per mille ragioni, la mattina possano arrivare in stazione tranquilli, comodi, parcheggiare e andare a lavorare sereni, non trovarsi qui chiuso perché tra un po' il proprietario chiude e ha ragione perché non può un'amministrazione prendere in giro un cittadino singolo proprietario di quest'area ma non può prendere in giro tutti i cittadini del Comune di Pesaro. Il prezzo concordato ruota intorno ai 600 mila euro, qualcosa meno, il prezzo concordato, il danno erariale che si potrebbe creare con l'esposto alla Corte dei Conti che è stato fatto, con tutte le spese poi che si aggiungono alla questione, siamo sopra circa un milione di euro, quindi io penso che anche economicamente ci conviene chiudere la partita.